Hoop esclusivo con la redazione di Spacca.info Voi come sapete... Pronto Andrea? Sì, come sapete Dzeko è infortunato, no? Andrea? Sì. Andrea, che mi senti? Sì, ti sento, ti sento. Dove sei? Io sto sotto il letto di Edin. Sotto il letto di Dzeko? Sì. Che stai a fare sotto il letto? Scusate la linea cade però. Sì. E niente, ci abbiamo avuto questa soffiata da un magazziniere. Soffiata da un magazziniere, dì, dì. Che è niente, è legata qualche mese a questa parte. Sì. Dicono i giocatori che vengono aggrediti di notte, legati, pavagliati. Come? I giocatori vengono aggrediti di notte? Ma da chi, scusa? In particolar modo Dzeko. Dzeko? Aggredito? Dzeko e i turbi viene anche... I turbi? Non è inventato, ma no. Come è inventato i turbi? Defraudato, sì, sì. Defraudato? Defraudato. Defraudato. Sì, sì, ma c'è Dzeko è stato attimo con la moglie. C'è la molla che zanzica e niente. Zanzica? Hai detto? Zanzica, c'è la molla che zanzica. Zanzica. Perché zanzi, zanzica. Sì. E niente, allora, quest'altro siamo appostati sotto il lettino. Alza un po' la voce che non ti sento. Non posso perché stanno copulando con una moglie. Ah, il Dzeko sta copulando con la moglie sul lettino? Eh sì, a noi 55. Copula? Vabbè, giustamente non gioca, quindi copula. A lui piace. A lui piace, cioè, ma pure a me piacerebbe. Verso le due e un quarto di... Di questa notte? Sì, sì. Che è successo? Mentre il bosniaco dormiva è entrato Andrea Soli. Andrea Soli? Sì, sì. Con un martellone da... Con un martellone. Sì, è iniziato a martellare Giacomo e di Dzeko. Ma perché? E non lo so, lo insultai e dici, no, basta, tu non ci ho detto il mister, tu non devi giocare perché c'è Gervigno, un Andrea Soli alla francese, c'era tipo un baschetto, il baffetto alla francese, e gli chiedeva queste martellate. Cioè, tu quindi stai dicendo una cosa grave, tu stai dicendo che in pratica Gervigno, sì, che cosa, Garzia è contento così, non sente l'assenza di Giacomo. Cioè, per lui non deve più giocare. Ho un'altra cosa, che in pratica ai turbi, viene legato e lasciato 24 ore al giorno a fare il televisore a far vedere i conti Gervigno. Ah, ecco, come ti impara di come si gioca. Ecco, impara, tu che sei un cane da questo fuori in assia che stai distruttando il pallone loro. Vabbè, noi ti ringraziamo per questo scoop, ma uscirai da sto letto oppure devi essere da sotto? Guarda, non credo perché le copule del Borbiacolo sono dalle 5 alle 6 ore. Ah, ecco. Tu rientrà anteazzolico. Con il martello. Quindi tra una martello e l'altra lui, diciamo, copula. Sì, sì, sì. È così per allenare il dolore. È chiaro. Ma non solo la moglie, perché anteazzolico è morta ogni 2-3. Capito? Vabbè, noi ti ringraziamo per questo scoop. Niente, andrei. Niente, io guarda, spero di uscire fuori per un mempore. Vabbè. Intanto sto con premio play. Va bene? Ok. Un saluto, grazie. Ciao, ciao.